Salutatore, grandissima sorpresa, eccomi qui con un grandissimo, il grande Giulio Base. Vuoi salutare tutti i tuoi, a saluto i tuoi, a me piacciono le persone che si inventano un personaggio. Tu ti sei fissato con questa cosa di inseguire lì per fare il salutatore, quindi il salutatore è un grande, un bacio a tutti, però se fai dei figli anche a fuoco delle volte, questo è tutto spocato. E tutto, allora ci avviciniamo, ci avviciniamo. Andrei ancora meglio, allora meglio, ripeto tutto, il tonoro forse era buono, ciao a tutti. Io ti ricordo, dopo andate una cosa, ecco qua, nei prossimi due film, mi chiami come attore? Ma tu sei il salutatore, salutatore, grazie, ciao Giulio.